Ciao raga bentornati sul mio canale youtube, oggi è venerdì, questo significa che abbiamo un altro appuntamento con la promo da parte di EI dei Rule Breakers quindi ancora tema Halloween per un'altra settimana e vi dico già tanta tanta roba raga, tante carte belle e interessanti che ci andiamo a spulciare insieme secondo me più dell'altra settimana, quindi rapido cambio di scena lo sapete, eccoci qua potete vedere che siamo su Footbin, perché come al solito ovviamente esce la promo e i server sono volati immediatamente al bar potete ammirare anche il nuovo Verlady Halloween epico realizzato assieme a Tixond, col quale arriveranno tante collaborazioni e la prima carta che ci andiamo ad analizzare è l'Angelo di Maria Angelo di Maria che come potete ben vedere ha 5 di skill, 2 di piede debole, grave problema, 1,80m, workrate medio-alto per comunque uno di quelli che solitamente è più famoso per gli infarti, walkout di Argentina e poi esce lui a non messi che peraltro, almeno in queste versioni, perché stiamo parlando comunque di una carta dalla spiccata velocità ovviamente anche le statistiche di tiro sono abbastanza buone, anche se questo 81 di finalizzazione è un attimino ambiguo ottime le statistiche di agilità con 95, reaction 85, equilibrio 81 un po' così, buona anche la freddezza 87, la stamina 80 il problema di questo di Maria è quel 2 piede debole, diciamo che va visto un po' il prezzo perché sebbene magari una dama lo possiamo anche utilizzare visto il 2 piede debole ma comunque una carta di 10k un di Maria se dovesse andare sui 4-500m oltre al discorso di ibridabilità anche se comunque magari lo possiamo linkare con Bampè stiamo parlando di una carta dispendiosa con un grave deficit, quello del piede debole compensato un po' dalle 5 skill diciamo che comunque una carta che potrebbe essere impiegata giusto in fascia è sicuramente non in posizioni centrali, quindi né punta né CEC perché lì il weak foot si va a far sentire parecchio quindi diciamo che di Maria lo rimandiamo a settembre in attesa di ulteriori valutazioni carta successiva è quella di Marcolino Royce Marcolino Royce che prende deboost abbastanza interessanti perché se andiamo a vedere prende un più 2 in velocità, perde 4 punti in passaggio addirittura un boost di più 17 in fisico ragazzi una roba che vabbè e parliamo di una carta 4-4, 1,80m, anche lui work rate medio alto buone le statistiche di velocità, ottime le statistiche di tiro sicuramente superiori rispetto a Di Maria tanta roba anche agilità 84, equilibrio 83, reaction 86, buona la freddezza 86 mi preoccupa un po' la forza 84 che potrebbe andare un po' a appesantire in termini di agilità Royce in un gioco dove già non è che proprio vadano a volare i giocatori e diciamo che comunque ruolo che andrei ad utilizzare per questo Marcolino Royce è il COC ma comunque anche su di lui non è che ci andrei a fare proprio delle grosse di enormi follie perché comunque parliamo di una carta che secondo me andrà a prezzi abbastanza alti e che ha dei competitor in quel ruolo ad esempio ipotizzando in una Bundesliga ci potete andare a mettere tranquillamente ma pure un Rashica che è comunque 4-4 e più rapido finalizza bene eccetera eccetera oppure sempre rimanendo in ambito tedesco ci possiamo andare a piazzare un Avers che costa sicuramente meno e lo potete andare a utilizzare lo stesso quindi Royce diciamo che la carta così è buona ma non è che ci andrei a spendere più di tanto la carta successiva che andiamo a vedere è una carta che ha fatto tanto parlare di sé ed è quella di Romelu Lukaku che finalmente ottiene un bel boost in velocità tanto acclamato 3 di skill 4 di piede debole per 1,91 di cavallone pazzo e in questo caso ovviamente abbiamo detto abbiamo questo boost più della velocità che dell'accelerazione ottime le statistiche di tiro per quanto riguarda le statistiche di passaggio bene il corto un po' almeno il lungo queste statistiche qui ragazzi possono essere commentate solamente in un modo statistiche assolutamente fake perché questo non è mai agile 85 equilibrio 82 reattivo 92 essendo un Cristo di 1,91 con 90 di forza quindi questo qua è praticamente un bue ci manca solo l'asinello non lo andate mai a spostare mai a girare in game con rapidità credo che in un gioco dove già si fa fatica una carta del genere può veramente essere bypassata bellamente certo magari se siete player da serie A un try glielo potete pure dare anche se piuttosto che prendere sto Lukaku prendo Mertens base o piuttosto appunto il Mertens serial breaker visto che comunque il boost che riceve è un più 4 in velocità un più 2 in tiro un più 13 in dribbling che appunto vista la carta rimane molto fine a se stesso è un più 4 in fisico che contribuisce solo a renderlo più macchinoso ma il vero gott ragazzi il vero gott di questo team è che non ci aspettavamo onestamente è la piovra è il polpo pol il polpiere pop bah ragazzi miei dove l'hanno cacciato quando l'hanno pensato 5 di skill 4 di piede debole per un 1,91 anche qui di cristone il piovrone nazionale per un work rate di medio alto e andiamoci a vedere immediatamente i boost che riceve infatti abbiamo un più 2 in velocità un più 9 in passaggio un più 16 in difesa a me questo me fan dal manicomio perché ho appena comprato Gullit ma qui potrebbe anche esserci una mossa epica non lo so me la studio comunque andiamolo a commentare accelerazione che rimane sempre abbastanza ambigua quindi diciamo che sullo scatto non è che lo vedete proprio reattivo ma sul lungo con 81 di velocità se la cava bene ottime le statistiche di tiro con 91 di potenza tiro e long shot 83 un po' meno la finalizzazione con 76 peccato sto passaggio corto 77 onestamente ma aspettavo qualcosa di meglio molto meglio il lungo con 81 agilità 74 balance 67 reactions 82 con freddezza 88 ball control 91 comunque per una carta di 1,91 da centrocampista ci stanno tutte e guardate qui finalmente che belle boost che riceve anche per quanto riguarda le statistiche difensive con 81 di intercetto 80 di mentalità difensiva 83 di contrasto in piedi 82 di scivolata abbiamo poi 84 di stamina 90 di forza e 79 di aggressività anche qui sull'aggressività mi aspettavo qualcosina in più ma comunque questo qui con una bella ombra una bella ancora diventa una di quelle carte fastidiose che in mezzo al campo possono sicuramente dar fastidio ruoli nel quali io andrei a utilizzare sto polpo sicuramente qualora utilizzato un 4-2-3-1 può fare il cdc così come può fare anche il cc in un 4-4-2 e ovviamente il cc in un eventuale rombo un po' meno il cc data comunque la sua macchinosità ma questo qua promosso a pieni voti anche se secondo me costerà una fracca leggendaria di danari passando avanti abbiamo un altro giocatorino molto interessante che è Cose Maria Gimenez che riceve dei boost interessanti infatti potete vedere un più 15 in velocità che è la cosa che più salta all'occhio di fatti 80 di accelerazione 84 di velocità scatto abbiamo poi un buon passaggio corto e un lungo decente per un difensore centrale 85 di reaction 80 di composure statistiche difensive alla grandi 90 di forza 89 di aggressività per quello che onestamente regà non mi pento di definire un chip Varane neanche troppo chip secondo me perché bisognerà andare a vedere poi quanto costerà ma è comunque il fratello gemello di Varane in una liga quindi in quelle che sono eventuali preferenze questo qua scavalca i vari Diego Carlos Militao persino Ramos secondo me e si va a collocare immediatamente sotto a Varane quindi un'ipotetica classifica di difensori di Liga vi dico Varane Gimenez ovviamente risulta difficile da ibridare a meno che non abbiate un portiere Icon non altro DC Icon vicino quindi diciamo che è consigliato nel caso in cui avete una una Liga e basta non è che farei follie per andare ad ibridarlo visto che c'è una nazionalità ambigua ma comunque promosso a pieni voti questo Gimenez qualora lo possiate andare ad utilizzare altra carta molto esotica è sto quadrado anche questo nessuno se l'aspettava 5 di skill 3 di piede deboli 1,79 work rate medio alto per boost importanti che arrivano in particolare nella difesa quindi in qualche modo a conclamare quello che è il ruolo di terzino che sta svolgendo ultimamente questo qua è tanta roba tanta roba perché vi dà anche la possibilità di linkare un eventuale Ronaldo spostato a centrocampo appunto in un modulo per poterlo ibridare a 10 e sicuramente appunto dicevo è abbastanza valido anche perché è una sorta di semedo con questo boost anche difensivo alla fine le statistiche siamo lì ha anche degli ottimi passaggi 84 il corto un po' meno è lungo è molto agile e soprattutto c'ha 5 di skill vedete qui ha ricevuto anche 80 di mentalità difensiva 88 di tackle e 90 di scivolata 81 di aggressività la forza è un po' così puzzolente ma sto quadrato sicuramente è il numero uno dei terzini in Italia e sicuramente è uno dei terzini anche migliori per ibridare il buon CR7 ovviamente mi andrete a memare perché sto dicendo sicuramente 8000 volte me ne sto rendendo conto ma questa è un'altra storia un'altra carta è assolutamente epica è il buon Alex Techshare a dos santos questo qui è tanta roba 4-4 e andiamo a vedere il boost che riceve perché riceve un più 6 in velocità però ha no un meno 6 in velocità scusatemi quindi perde velocità a favore del tiro anche un po' di dribbling un po' di fisico però questa cosa che gli abbiano un po' ridotto la velocità a me onestamente puzza anche se rimane comunque validissimo perché 87 di velocità infatti andiamo a vedere con 88 di accelerazione e 86 di velocità e tanta roba ottime le statistiche di tiro guardate qui con 84 di tiro e 87 di finalizzazione questo qua è bello bello agile perché forza non ne ha è 1,74 c'ha quel body type per essere agile e difatti 95 di agilità 80 di equilibrio 82 di reaction 86 di freddezza questo qua può essere un buon giocatore soprattutto qualora non vada proprio a prezzi esagerati sicuramente può essere migliore di un eventuale Gabriel Jesus Richarlison eccetera se avete bisogno di un attaccante brasileiro potete per esempio Provenzare di linkarlo con Paulinho con Talisca sicuramente molto valido sto dicendo ancora sicuramente non la smetterò mai andiamo avanti e abbiamo l'ottimo Daniel Podenz ho preso la versione sbagliata eccolo qua 4-4 e vediamo che riceve un meno 4 in velocità ma riceve un boost incredibile in tiro quindi addirittura un più 22 riceve anche delle migliorie in dribbling e passaggio veloce comunque rimane veloce con 90 di accelerazione 86 di sprint speed 81 di finalizzazione 89 di potenza tiro un po' mmm i passaggi un po' malino la freddezza 81 mi fa scattare sempre quel campanello d'allarme quando non è verde scura però per il resto sta carta è tanto agile io l'ho usato il base sul play stamina 83 questa è una carta che a sinistra secondo me tolto rushford è tolto ovviamente mané scavalca tutti quanti gli altri e diventa diciamo il terzo esterno sinistro di di premier league in tranquillità proprio quindi qualora vi serva un esterno chip questo qua secondo me può essere tranquillamente viabile e secondo me potrebbe anche ricevere un try da c o c anche se i passaggi non sono proprio il top però a livello di agilità questo se la cava veramente bene quindi lo potete pensare anche di andare a inserire tra le linee altra carta è quella di acancia lanoglu acancia lanoglu che vi dico subito gli hanno boostato la velocità addirittura più 24 4-4 c'ha lanoglu 94 di accelerazione 85 di sprint speed 93 di potenza tiro con 95 di long shot passaggi un po' me agilità 81 balance 82 reaction 83 comunque lo rendono anche discretamente agile freddezza 83 siamo al limite buono il controllo palla ottima la stamina 80 questo qui stesso discorso per quanto fatto per potenza diciamo che non lo andrei a inserire in un'ipotetica ibrido ovviamente non è che farei follie per mettere sto cialanoglu ma qualora abbiate una serie A questo qua secondo me è uno dei migliori esterni in circolazione insieme a insigne probabilmente se non anche meglio quindi tocca sempre vedere a quale sarà il prezzo però sto cialanoglu diciamo che gli diamo un up e potremmo tranquillamente pensare di andarlo a utilizzare qualora abbiamo serie A ovviamente altrimenti non vedo altro modo di pensare di inserire sto cialanoglu in una squadra altra carta tanta roba è il buon Patrizio Vanhanolt che riceve un più dodici in difesa o più quattro in velocità 3-4 un metro e settantasei basso alto vediamo l'accelerazione 89 sprint speed 91 potenza tiro 84 ci frega relativamente i passaggi puzzano un po' agita 83 e balance 81 nonché equilibrio controllo palo 82 sono tanta roba per un difensore accompagnato anche a mentalità difensiva 83 e scivolata 89 vettacolo 88 ottima l'aggressività 81 un po' meno la forza 86 di stamina e 95 di jumping per quello che secondo me a questo punto del gioco è il mio terzino sinistro in premier league evita la possibilità anche di poter essere inserito in un'eventuale librida mi immagino un triangolo Van Dijk Vanhanolt De Jong per esempio questo qua secondo me veramente merita un sacco di fatti vedete che su play già è uscito uno al cap non so se effettivamente rimarrà al cap ma occhio a Stovane Anolt perché veramente big up a sinistra in premier c'era solamente Reguillon e Robertson quindi un po' di moria delle vacche ma arriva lui e secondo me sarà presente veramente in tante squadre vi ripeto in una premier league è il miglior terzino sinistro a mani bassissime per quanto riguarda poi l'ultima carta abbiamo sto para abbiamo sto para che riceve un più 23 in dribbling un più 9 in difesa e un più 4 in velocità questo qua è un cavolo di dito proprio lì dove sapete voi accelerazione 83 velocità 92 ottimo passaggio corto un po' meno e lungo guardate qua 88 di agilità 85 di equilibrio e 93 di reaction raga 93 di freddezza mentalità difensiva 80 contrasto in piedi 85 scivolata 79 l'aggressività e la forza me le aspettavo un po' meglio comunque per un cavallone di 1,88 che è il buono para anche qui il problema è quello dell'ibridabilità l'unico modo possibile che io vedo per poter ibridare sto para è icon a porta o para jedlin o icon terzino più icon a centrocampo perché certo non abbiamo giocatori americani utilizzabili o della mls appunto utilizzabili ancor più e di conseguenza lo rendono un pochino ambiguo infatti vedete che il cap è a 75.000 ma questo magari che ne so ma pure da super sub se lo sculate non scambiabile un difensore io vi consiglio sempre di portarvelo può dire tanto la sua fatto sta che praticamente come avere 88 di velocità boh un Obama Young un altro po' in difesa per un metro 88 che dire ripeto peccato per il campionato che lo rende praticamente un po' così e così però tanta roba sto opara che vi dico promosso a pieni voti però abbastanza inutilizzabile per via del del campionato è nulla regà quindi per quanto riguarda questo video fondamentalmente è tutto spero che vi sia stato utile commentate lasciate un like mi raccomando cose che mi servono sempre e nulla vi aspetto il live lo sapete ogni giorno alle 10 alle 16 vi auguro un buon proseguimento ciao